Siamo con il dirigente della Bocastrum, una partita iniziata lenta, nel secondo tempo i ritmi sono accelerati e un buon pareggio alla fine e poi il rammarico del rigore per il sesto fallo. Il sesto fallo siamo arrivati un po' stanche, per la mia squadra molto rimaneggiata è stata veramente una bella partita, anche perché l'ultima partita abbiamo fatto una brutta prestazione con il Grotta Mare, invece oggi per ovvi motivi di agonismo è stata una bella partita, in tutto e per tutto. È stata bella, diciamo corretta, però è giocata a buoni ritmi, è brava le ragazze nostre, è brava anche la Gemina, mi spiace per il campionato, ma c'è un'altra giornata, quindi loro potranno ancora dire per la vittoria del campionato. Le mie hanno fatto quello che dovevano fare.